Amore, che impegni hai per oggi? Tra mezz'ora incontro il presidente di una società di calzini che vuole rilanciare i brand e poi vado a tagliare i capelli No, non ho capito, scusate Incontro il presidente di una società di calzini che vuole rilanciare i capelli No, una seconda Vado a tagliare i capelli Ok Annullo gli impegni del giorno e vengo con te Ma perché? Mario Perché tutte le volte che vai a tagliarti i capelli da solo vengono uno schifo Ma che vuoi che a 30 anni non sappia tagliare i miei capelli? A 30 anni tu vuoi che io non sappia andare a tagliare i miei capelli da solo E allora? Perfetto Ma che combinato? Ma non va bene Ma che è sto sto? Ci pare un calciatore Ma come è il colpo? No, no Senti, questa è questa cresta Ci vuole un taglio pulito Come il nonno No, ma come il nonno Come il nonno, sì, sì Come il nonno, ho deciso Vai, vai Come il nonno Come il nonno